Sì, grazie Presidente. In realtà non abbiamo utilizzato nessuna clava, come è solito nostro modo di fare, in maniera gentile e garbata. In capigruppo abbiamo avvertito le opposizioni che avremmo inserito con dieci firme un provvedimento che fa bene alla città, ovvero si dà la possibilità che gli autobus appena arrivati possano essere utilizzati e messi per strada. Mi fa piacere sentire il capogruppo del Partito Democratico, Peronzi, definire questo provvedimento utile e quindi immagino che vi saranno anche i loro voti per approvare questo provvedimento. Grazie.